La Juventus prende Kostic dopo aver ripreso Pogba, dopo aver ripreso Bremer eccetera eccetera e tutti mi dicono e adesso cos'hai da dire sulla nostra società? Un cazzo, un cazzo ragazzi, un cazzo, non ho un cazzo da dire che me ne frega, dispiace se la Juve compra giocatori forti ma io vado allo stadio a prescindere da chi compra l'Inter voi dovete capire che il nostro amore per la squadra non deve essere vincolato ai calciatori poi che dispiace il fatto che l'Inter da quasi tre anni non fa mercato dispiace anche a me ma visto che ormai dovremmo averlo capito che non tireranno fuori una lira di tasca loro nella presidenza quindi nutre che ogni anno se lo so è come se arriva mia moglie mi dice ma hai visto il vicino di casa si è comprato il Porsche Carrera, il GT2 che devo fare io? Mi devo disperare perché lui ha la fortuna di comprarsi il GT2? No, mi tengo stretta la mia minicuper fin quando mi porta a cavallo ragazzi, stop, dispiace vorrei che la Juve comprasse bidoni al posto di comprare giocatori forti questo è poco ma sicuro ma rispetto alla porcata dell'anno scorso quest'anno ad oggi un Inter che non ha venduto nessuno per assurdo tu hai visto a che livello siamo arrivati ci appaghiamo ci sentiamo appagati se non vendiamo nessuno anche se non compriamo purtroppo la condizione è questa e quelli che dicono eh no allora se ne deve andare ma andare per lasciare a chi? se non ci sono acquirenti che cosa dobbiamo fare? che cosa dobbiamo fare? devi andare al comune di Milano e devi dire toh vi do la squadra come fanno nel calcio locale qui che vai dal comune e gli dai liri della squadra fin quando non ci sono acquirenti poi al primo acquirente al primo acquirente interessato all'Inter sicuramente venderanno perché è insostenibile avere una presidenza che non calci una lira ma è insostenibile anche per loro avere una società di calcio che si chiama Inter non una società che viene presa dalla serie C o dalla serie B non il Malaga di Ronaldo piuttosto che il Newcastle di Bin Salman eccetera eccetera arriverà una presidenza quando arriverà qualcuno che realmente è all'altezza ed è degno di essere il presidente dell'Inter sarò il primo a andare via Paolo Sarpi a cercare Zange con il contratto e dire guarda devi firmare perché è arrivato un presidente degno dell'Inter però ad oggi che ogni acquisto che fa la Juve o farà il Milan o farà la Roma la Roma che ragazzi secondo me quest'anno se non lo vinciamo noi vince lo Scudetto ve lo dico già da adesso troppo entusiasmo grande entusiasmo bella squadra grande allenatore grande personalità comunque sti cazzi speriamo di vincerlo nello Scudetto perché partiamo avvantaggiati che stavo dicendo mi sono perso con la Roma cioè che è inutile che stiamo a vedere chi comprano gli altri è buon per loro che possono comprarlo eh ma a te ti piace essere così senza calciomercato no non mi piace però non posso ogni giorno vedere fare la zabbetta e vedere il mio vicino ah si è comprato la maglia della Stone Island ah si è comprata la moglie la borsa di Gucci è buon per loro che possono comprarlo noi comunque siamo la squadra che gli ha rotto il culo tre volte su quattro l'anno scorso siamo la squadra che ha fatto più punti negli ultimi tre campionati anche quello che hanno vinto loro se sommiamo tutti e tre campionati siamo la squadra che ha fatto più punti quindi noi abbiamo una buona base di partenza abbiamo visto a sinistra che manca Peric Magoses sta iniziando a carburare ok sta scaldando i motori e abbiamo Lukaku in più che l'anno scorso ci è mancato come il pane da prima punta e soprattutto da rigorista che l'anno scorso non sapevamo tirare sti cazzo di rigori e quindi dovete capire che noi ti fiamo a prescindere da chi compra l'Inter a prescindere da chi compra e chi vende perché noi da bambini siamo stati indottrinati dai nostri genitori e dai nostri zii anche dai nonni ad amare l'Inter a sostenere l'Inter poi se l'Inter può permettersi Holland wow se non se lo può permettere vuol dire che durante la stagione mi incazzerò di più durante le partite ma saremo sempre tifosi della nostra squadra la Juve prende i costi c'è noi e noi niente noi ci ascoltiamo la musica vai ci ascoltiamo la musica noi sti cazzo ce ne andiamo al mare ce ne andiamo ce ne andiamo in giro compriamo l'amplificatore per la macchina che voglio migliore voglio farmi un impianto come cazzo si deve noi ci vi godete i vostri figli per chi c'ha la prole vi godete le vostre mogli le vostre amanti andate a puttane e la Juve compra Kostic la vita va avanti perché il calcio è la cosa più importante sì ma delle cose meno importanti viva l'Inter iscrivetevi al canale attivate la campanella e questi video ragazzi i miei video come quelli di Diego condivideteli con gli amici cazzo dobbiamo condividere questa mentalità che non significa un diciamo un retrocedere di livello direi allora tu ti accontenti tu ti accontenti di arrivare quarto quinto sesto no fosse per me l'Inter vincerebbe il triplete ogni anno ma il mondo reale non funziona così ci sono anni dove ti salga la penultima giornata di campionato e poi puoi vincere una coppa UEFA col casino di Salisburgo e ci sono anni dove vinci tutto ci sono anni che non vinci nulla ci sono anni che c'hai Vieri Ronaldo e Baggio e finisci con zero titoli viva l'Inter non la presidenza non la dirigenza non il calciatore più tizio piuttosto che Caio viva l'Inter viva l'Inter iscrivetevi attivate e condividete il più possibile ciao ragazzi la Juve compra Cosic e sti cazzi